Anders Hill e Karen Bursin ricevono un premio oltre a stare insieme nella vita, nella sopopera Love Is It Der, ora Anders Hill e Karen Bursin sono uno vicino all'altra sui palcoscenici delle diverse manifestazioni cinematografiche turche. Per chi non lo sapesse, il Golden Wings è uno dei premi più prestigiosi in Turchia. Recentemente i due professionisti di Istanbul sono stati premiati come miglior attori protagonisti per la serie TV che dallo scorso maggio sta andando in onda su Canale 5. Andiamo a vedere nello specifico cos'altro è successo. Continua dopo il video. Il grande successo con Love Is It Der, la stessa sopopera turca Love Is It Der ha ottenuto numerosi premi e riconoscimenti. Era il 2020 quando in terra turca la prima e seconda stagione dello sceneggiato con Eda e Serkan hanno riscosso un grandissimo successo portando tale prodotto televisivo ad essere comprata e tradotta in diversi stati europei. Da quel momento è nato il fenomeno Karen Bursin e Anders Hill. Quest'ultimi durante le riprese sul set hanno conosciuto l'amore che molto presto potrebbe arricchirsi con la loro unione in matrimonio. La storia d'amore tra Anders Hill e Karen Bursin infatti, è cosa risaputa che tra Karen Bursin e Anders Hill ci sia in corso una storia d'amore seria. Per questo motivo, forse, questo avrà contribuito al successo ottenuto nel nostro paese. Alcune settimane fa, ospite a Verissimo di Silvia Toffanin l'attore turco ha dichiarato che inizialmente i due hanno tenuta nascosta la loro relazione sentimentale per evitare che giornali e paparazzi li seguissero ovunque, ma dopo qualche tempo si sono resi conto che era insostenibile la vita, quindi l'hanno resa pubblica. La storia d'amore è stata pubblica. La storia d'amore è stata pubblica.